bene ragazzi qui mattia e bentornati in questo nuovissimo video oggi siamo su minecraft la serie ok prendiamo questi materiali se non se non sono abituato ancora quindi se faccio qualche fail ma giusto qualcuno non ne faccio tanti non vi arrabbiate per favore ve lo rido con tutto il cuore intanto solita buca per la notte facciamo una bella buca per la notte per i mob più che altro sono nella 1.8.3 quindi nell'ultima versione di minecraft ok ok questo è il nostro inventario bene prendiamo la cesta le torce soprattutto le torce ok bene ora direi di passare con la legna subito degli achievement completati ragazzi mamma mia che pro ton 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 salta ho bisogno di un sapling dammi un sapling per favore non mi ne serve no 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 io la vedo su quest'albero ci deve dare un spingo almeno vabbè che di legno ne abbiamo un cielo dato ok bene ora il nostro buco qua per non perderci magari mettiamo intanto una torcia all'interno ok vediamo se qua sopra riusciamo a vedere se capita qualche villaggio vicino ma credo di no no purtroppo niente villaggio per noi questa sarà la nostra serie eh sì la nostra serie di minecraft apriamo l'inventario no io non so come funziona purtroppo ah giusto così si faceva ecco il crafting abbiamo il crafting che bello mettiamo facciamoci innanzitutto un bel piccone non con questa legna possibilmente non con questa trasformiamola trasformiamola si vanno bene a quattro allora facciamo un piccone eccolo eccolo poi ci facciamo una spada non mi ricordo non mi ricordo come si fa non mi ricordo come si fa una spada prendiamo questo intanto uno 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 no tutti ok vabbè quattro scrittini prendiamo via questi i primi episodi ovviamente non saranno delle cose epiche ma sono noiosi i primi episodi no no la spada non si faceva così così via allora spada e può bastare poi allargiamo questa zona non mi va di stare tutta la notte qua fermo immobile peccato che i primi episodi sono così subito dopo questo episodio cercheremo di andare in miniera no prima ci costruiamo una piccola base e poi ci va tutti in miniera ok può bastare sto spazio prendiamo la gesta metti qua e posiamo la roba che non ci serve ok c'è questo e questo ok prendiamo il nostro crafting e adesso ci craftiamo invece non mi ricordo più dovevo craftare qualcosa ma non mi ricordo più ah giusto si 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 la intanto si fa così ok può bastare possono bastare 13 io penso 13 più di 16 allora così un altro gesto no devo trasformare gli altri voglio fare una porta ok bastano tre porte oh dammi la roba ok prendiamo queste tre porte perché non so perché ne ho fatte tre e abbiamo la nostra porta iniziale sta facendo da notte no ok si prende altro legno ok può bastare allora abbiamo preso altri 9 cubetti di legno più di qua ci facciamo la piccazza ok altro slick ecco oh come sono sbagliato mi devo imparare raga eh già mi devo imparare purtroppo così era? no così no ecco così si e facciamoci anche la pala lascio tutta la roba lo gesto lo tengo prendo questa tac e allarghiamoci allora costruiamoci un bel tunnel per la notte così andiamo direttamente in minuto mi ha ranzi la terra ne porta un poco per sicurezza che casino che sto combinando ok ok penso che 11 ci possono bastare sentire senti da rumore ok si scava sempre già allora abbiamo già della bella cobblestone spero che nei prossimi due episodi sento zombie torcia torcia non questo però niente qua sento degli zombie sentivo boh sentivo degli zombie e li sento ancora mo sento una mucca vabbè boh almeno uno stack devo prendere penso spero che basta la torcia riprendiamo non vedo un topo ok togli questa roba io non ho bisogno della terra così non troviamo la terra piccolo piccolo abbiamo quasi mezzo stack 30 31 ferro no ferro per noi oddio spero di non sbagliarmi non ricordo bene se col piccone no per sicurezza mi vado a craftare quello la di pietro ok bene già del ferro per noi bello pronto ci devo andare qua devo prendere gli schicchini crafting table così no la giurista non mi serve cobblestone è tempo di scavare andiamo giù no non mi ricordo se si può un cubo un cubo due cubi tre cubi quattro cinque sei sette otto e basta si si basta va bene la stessa almeno per me va bene scusate che abbassa un tanto la musica perchè fa davvero schifo no questa volta la musica di minecraft fa schifo saliamo su saliamo su saliamo su pietra ce l'abbiamo ancora? si colpe sta una fornace ok riprendiamo tutto tac tac cuocciamo il ferro la legna con un po' di legno credo che basta no non basta cacchio vabbè cuocciamo intanto qua trasformo l'altro tanto ne abbiamo un bel po' di legno lo schifo lo poso due lì aero no oddio via 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 oh mio oddio oddio epic fail c'era un creeper che ci stava aspettando no 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 va bene stupido creeper torcia torcia fammi chiudere qua uno c'era uno stupido creeper ci stava aspettando proprio là fuori ci stava aspettando proprio là fuori no 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 va bene maledetto creeper prendi tutta la roba ora c'è tutto spero allora ecco esplosa la fornagia la cobblestone eccola ok abbiamo il crafting table si bene ecco suona la ruota quanto è che 17 minuti di registrazione mmm male male ok ce li facciamo la fornagia e concludiamo qui l'episodio episodio che parte davvero male ma male 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 sapete che significa male 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 loro 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 bene epic fail adesso io sono quello che sta dicendo cavolate togli sta terra maledizione eh non va bene però se partiamo così con i creeper che ci aspettano di fuori ok ci ha ma no non ho parola se abbiamo i creeper che ci aspettano di fuori proprio siamo pregati se non siete iscritti iscrivetevi 8 lingotti 8 lingotti abbiamo già mettiamo la gesto e lasciamo tutta la roba se non siete iscritti iscrivetevi vi metto ovviamente link della pagina di facebook nella descrizione se non siete iscritti iscrivetevi 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 ed iscrivetevi cento miliardi di volte condividete su dove volete e come al solito bella ragazzi ciao 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 ciao